Alle nostre spalle i segni evidenti dell'incendio che ha distrutto la galvanica Formelli lunedì scorso, un evento sicuramente importante anche sotto il profilo ambientale, per questo il sindaco di Arezzo ha emesso tre ordinanze sindacali. Il contenuto è quello di dare delle raccomandazioni ai cittadini in ordine ai tipi di inquinamento che si sono prodotti, uno è quello dell'aria e quindi suggeriamo ai cittadini di rimanere in casa finestre chiuse, di lavare tutte le suppellettili che si trovavano al momento dell'incendio e quindi dell'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti si trovavano all'aperto fuori di casa e in particolare le ciotole degli animali domestici che vengono alimentati all'esterno. L'altra riguarda sostanzialmente l'utilizzo dell'acqua dei pozzi perché non è ancora noto, l'ARPAT ci sta studiando, stanno facendo delle misure e quanta parte di quella sostanza inquinante è permeata nel terreno e può andare a finire nei pozzi. Quindi è stato richiesto di mettere ordinanza per inibire l'utilizzo dell'acqua dei pozzi che stanno nella zona sempre di Ponte Chiana Indicatore. La terza ordinanza di Ghinelli riguarda lo smaltimento dei rifiuti ed è indirizzata all'azienda e dispone quindi i tempi entro i quali l'azienda è chiamata ad attivarsi per l'allontanamento e la corretta gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'incendio, comprese le acque di spegnimento contaminate. Sì, certamente, anche questa viene controllata in maniera opportuna e i rifiuti vengono indirizzati ai sistemi di smaltimento dei rifiuti speciali. Il tema di questo incendio e di questa esplosione è quello dell'inquinamento. Devo dire però che la macchina di emergenza, sia per quanto riguarda Vigili del Fuoco che per quanto riguarda ARPAT, ASL, ovviamente Polizia Municipale di Arezzo che è intervenuta immediatamente, è stato pronto e questo ha limitato le conseguenze di quello che avrebbe potuto essere veramente un disastro dal punto di vista ambientale. Anche lo stesso intervento nella serata della stessa dell'incidente da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune che ha sostanzialmente incaricato una ditta privata che si è attivata immediatamente per costruire un'argine in terra, per evitare lo sversamento in fogna e in chiana dei cianuri diluiti dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio, è stata tempestiva e ha ridotto i rischi di un ulteriore inquinamento.